Qualche prepresità sulle scelte effettuate dal partito della Lega Nord arriva da uno stesso consigliere comunale della Lega Nord. Sì, allora diciamo che la Lega prima di un partito è un movimento, un movimento che fa riferimento all'identità di un popolo, di un territorio ben preciso. Nasce per una questione settentrionale 20-30 anni fa, una questione che è oggi ancora più presente dopo la crisi del 2008, hanno chiuso più di 2000 attività, ci sono state il Veneto, penso sia la prima per numero di suicidi di imprenditori, quindi una situazione che veramente è pesante. Quindi per rispondere alla domanda, andare diciamo ad avventurarsi in zone d'Italia dove la burocrazia, i problemi dell'amministrazione della macchina pubblica, lo sperpero di denaro, sono problemi, sono già presenti qui da noi ma là sono veramente a livelli altissimi. Quindi diciamo questa è una critica soprattutto per quanto riguarda la Lega Nord nazionale. A livello nazionale non, diciamo, mi lascio un po' perplesso, non vedo bene questa cosiddetta svolta sudista, questa svolta sovranista perché va in contrasto con quello che secondo me è il mio movimento. Ripeto, io faccio parte della Lega Nord per l'indipendenza della Padania che è anche il primo punto del nostro statuto. A livello locale invece? A livello locale, diciamo che non solo, c'è stato anche a livello locale ma questa cosa è stata comunque un po' diffusa. Vorrei un po' più di dialogo, un po' più di democrazia. L'usare l'espulsione diciamo come mezzo anche per mettere a tacere dei commenti, delle opinioni, delle critiche ma comunque costruttive, la vedo come una forzatura, la vedo come una cosa che secondo me è sbagliata. Quindi anche il fatto che se ci sono dei problemi, andare per forza a discuterne in sede chiuse, secondo me non lo vedo corretto perché ripeto, se io adesso sono un consigliere comunale o se altre persone rivestano altre cariche a livello locale, a livello nazionale, lo fanno sempre per mandato degli elettori, cioè dei cittadini. Quindi se ci sono delle discussioni è giusto anche che loro sappiano che vengano coinvolte su determinate tematiche. C'è stato anche un episodio di cui sei stato protagonista con Greenfert. Nel caso della Greenfert mi è stato detto che c'erano delle esalazioni veramente pesanti che impedivano lo stesso vivere normalmente al di fuori, dovevano chiudersi in casa queste povere persone. Ho fatto un'interrogazione alla giunta alla quale ho avuto comunque risposta, quindi il problema non è legato all'interrogazione. Dov'è nato il problema? Il problema è nato che quando sono venuto a sapere, non certo per vie dirette ma attraverso la stampa, che ci sarebbe stato un incontro tra l'assessore competente, il dirigente e i legali rappresentanti della ditta per vedere di risolvere questo problema in quanto avevano delle difficoltà ad ottemperare in modo, come si dice, rapido all'ordinanza emessa dal sindaco, ho chiesto serenamente all'assessore di poter partecipare. Mi è stato detto di no, ho chiesto le motivazioni, non mi sono state date, potevo capire nel caso in cui fosse stato un incontro riservato tra assessore, dirigenti e legali rappresentanti, ma quando ho visto che invece erano presenti altri colleghi consiglieri, alcuni dei quali la questione non la conoscevano neanche perché non hanno mai sollevato né interrogazione, non si sono mai interessati, non sapevano neanche del problema, l'ho vista come una bambinata fatta solo per non so quali ripicchi o non so per quale motivo, ma ripeto, per la gravità e mi vien da dire anche la ridicoletta del gesto, ne risponderanno altri, non sono io che ne esco male da questa vicenda ma sono altri. Grazie mille. Niente, salve. Grazie mille.